Sarà emozionante per il professor Michele Mele ricevere dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'onoreficenza al merito della Repubblica Italiana il 20 marzo prossimo. Un riconoscimento ottenuto per aver divulgato con cura e precisione le problematiche delle persone ipovedenti impegnandosi per eliminare le difficoltà e gli ostacoli. Sia barriere materiali che ideologiche, tra cui anche gli stigmi e i pregiudizi che allontanano i povedenti e non vedenti, spesso fin da piccoli, dalle discipline scientifiche. Molti dicono, quando mai un matematico non vedente, un ingegnere ipovedente, quando mai si è visto? E io voglio far vedere che invece si è visto, sia con la mia attività di ricerca che con i miei libri L'universo tra le dita e Il richiamo della strada. Il 33enne matematico ricercatore presso l'Università del Sagno si occupa nella sua attività delle problematiche delle persone ipovedenti e individua nuovi strumenti per facilitarne la quotidianità. Attualmente svolge attività di ricerca sull'universo tra le dita e il richiamo della strada, entrambi frutto di ricerche storico-scientifiche nei quali ripercorre biografie di scienziati ipovedenti e non vedenti. Collabora inoltre con numerose testate giornalistiche. Altra sua battaglia è quella di abbattere le barriere tra cultura umanistica e scientifica. È un'altra sfida che chiaramente deve essere portata avanti da ogni ramo della nostra società. Ancora adesso è molto diffusa quest'idea di una netta linea di separazione tra scienze esatte e scienze umanistiche ed è un'idea sbagliata che proviene dagli anni più bui della nostra storia. È il momento di metterla da parte e rendersi conto che la cultura è una sola.